Occorrono numerosi interventi in favore delle famiglie che abitano qui all'Istituto Autonomo Case Popolari, sono degli alloggi come tutti gli altri e questi cittadini necessitano di attività di ristrutturazione, di sistemazione di tutto quello che riguarda il loro corretto vivere. Non sono cittadini di serie B, io per molti anni mi sono occupato degli alloggi realizzati dall'IACP, sono degli alloggi come tutti gli altri e coloro i quali vivono in questa zona hanno diritto a ogni comfort e a ogni tipo di utilità. Molti non sanno che l'ex IACP mette a loro disposizione fondi fino a 1.200-1.500 Euro tramite il fondo sociale per aiutare e sostenere le famiglie che non hanno disponibilità per pagare il canone. Occorre realizzare più alloggi per l'Istituto Autonomo Case Popolari perché c'è molta gente che non ha casa e ha bisogno di assistenza e quindi con le condizioni di mercato oggi non è possibile per famiglie monoreddite o prive di reddito poter accedere ad un alloggio con le condizioni che abbiamo attualmente di mercato. Ecco, questo è un altro degli impegni che dobbiamo prendere, sollecitare l'Istituto affinché si costruiscano più alloggi per le famiglie bisognose.